Ben trovati da Nico Schiodetto, agli amici di Primo Canale. Condizioni meteo per la giornata di domenica. Viso meteo per forti condizioni di maltempo su tutta la Liguria, transiterà una perturbazione anglosassone con precipitazioni anche a sfondo temporalesco. Nel dettaglio imperiese, giornata grigia con tante nuvole, piogge sparse, venti vivaci e la possibilità anche di qualche locale fenomeno temporalesco. Per quanto riguarda il Savonese, anche qui giornata compromessa dalle forti piogge che a più riprese interesseranno tutta la provincia. Genova, ombrelli aperti, condizioni di vivace maltempo, piogge e rovesci sparsi, venti sostenuti e mari mossi e molto mossi. Tiguglia, una giornata che sarà tipicamente invernale con possibilità di piogge temporali a più riprese. Durante il pomeriggio c'è il rischio anche di forti intensi scrosci di pioggia nel passaggio di questi temporali. Nel corso invece della giornata di domenica sullo Spezzino le condizioni saranno di clima ventoso con mari molto mossi e appunto anche qui non mancheranno piogge a più riprese. Nella giornata di lunedì al mattino ancora tempo dinamico, un po' di variabilità con le ultime piogge sull'entroterra, già esaurimento dei fenomeni sulla costa, dal pomeriggio migliora dappertutto con sprazzi d'azzurro. Maggiori dettagli e approfondimenti scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.